La sesta edizione di Nonno Ascoltami parte da Penne con Mauro Menzietti. Veniamo a parlare di questo bel progetto che ha avuto anche il riconoscimento del Ministero della Sanità. Siete soddisfatti? Sì, davvero una grande soddisfazione. Chiaramente vedere questa iniziativa che ha questo impatto sociale così importante perché effettivamente prende gli ospedali e li porta in piazza ad offrire un servizio sanitario, peraltro in una giornata di festa. Perché poi il bello di questa cosa è che chiaramente è la festa dei nonni e con la festa dei nonni noi riusciamo a dare un messaggio di efficienza e di salute alla famiglia intera. Un nonno che sta bene, lo dicevamo ieri in conferenza stampa, è un nonno che chiaramente può essere molto utile, può essere ancora partecipe alla vita sociale, alla vita familiare e vivere a pieno i propri nipotini. Non c'è nonno senza nipote, nonno ascoltami è il messaggio che lanciamo per portare, ripeto, gli ospedali in piazza e offrire una giornata di festa e un momento di prevenzione. Ma vogliamo raccontare anche come è nata l'idea, come è nato il progetto? Il progetto è nato quindi sei anni fa proprio dalla sola piazza di Pescara, eravamo in pochi, era effettivamente un po' un esperimento, vedere se si riusciva veramente a fare qualcosa di più per tutte queste persone che soffrono di problemi di udito e neanche lo sanno. Pensate che lo scorso anno in 12 piazze erano quasi 3.000 le persone che hanno fatto un controllo dell'udito e di queste più della metà avevano un problema di udito, molto spesso non ne erano a conoscenza. Quindi questi numeri ci danno proprio la misura della gravità del problema e della gravità del fatto che nessuno se ne occupa. Siamo l'unica manifestazione nazionale che porta i professionisti, i sanitari, i medici, gli ospedali in piazza a fare un servizio che altrimenti non si farebbe. Nessuno va in ospedale a fare il controllo dell'udito a meno che non ha qualche motivo tecnico pratico oppure motivi vari per farlo. Nessuno spontaneamente fa un controllo dell'udito eppure bastano 5 minuti per risolvere una situazione che negli anni invece diventa molto molto grave. Da Pescara è partita questa battaglia, quest'anno invece sono 20 le piazze, da Rovereto a Matera c'è il patrocinio del Ministero della Salute e l'accreditamento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi siamo i portavoce italiani dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i programmi chiaramente relativi alle problematiche dell'udito. Siamo stati anche incaricati di tradurre tutto il materiale internazionale per poterlo diffondere in Italia. Insomma sono delle cosine che ci fanno capire che stiamo andando bene, che tutto è allineato e che la manifestazione crescerà. Tra l'altro esami gratuiti quindi non resta che approfittarne anche nelle prossime settimane, nelle 20 piazze coinvolte dall'azienda Maico. Però bisogna anche dire, sottolineare la disponibilità dei primari che hanno accolto di gran carriera volentieri il vostro invito. Sì sì ma infatti a loro va il nostro grandissimo ringraziamento. Diciamo che senza di loro non ci sarebbe chiaramente l'iniziativa. Infatti ripeto è l'ospedale che va in piazza con tutta la sua struttura avvalendosi poi della disponibilità della Croce Rossa, della Misericordia, di tutti i volontari, delle aziende che chiaramente in qualche modo sostengono l'iniziativa. L'esame dell'udito è un esame gratuito, si fa qui, si fa anche negli ospedali, si fa tutto l'anno, chiaramente anche in tutti i centri acustici che fanno questo servizio. Dura cinque minuti e io consiglio a tutti di farlo. Nelle prossime, questa è la prima domenica, abbiamo altre tre domeniche, poi in tutta l'Italia si può fare questo controllo a non ascoltami. Questo per sviluppare, e lo vogliamo ribadire anche in questa sede, il concetto della prevenzione, fondamentale, soprattutto in prospettiva futura. Assolutamente, infatti è proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci incarica di lanciare l'allarme, perché poi oggi la prevenzione per i problemi di udito significa prima di tutto corretti stili di vita, come in tutte le patologie chiaramente, e in particolare l'uso appropriato degli smartphone, delle discoteche, dell'alcol e del fumo, che poi sono i malanni che vanno a colpire il miliardo di teenager che sono in questo momento a rischio proprio per questi comportamenti scorretti. Quella è prevenzione. Prevenzione è anche informare la cittadinanza su tutti i problemi che sono legati a una perdita di udito, che significa minori abilità, minori relazioni sociali. La sordità ha un impatto molto forte dal punto di vista funzionale, dal punto di vista lavorativo. Ci sono statistiche, studi che ci danno proprio la misura del fatto che la persona che ha un problema di udito vive male, vive male la propria opposizione lavorativa, è convinta di lavorare di più e di guadagnare di meno degli altri. Che significa? Che la persona che ha un problema di udito piano piano si sente sempre più diversa e piano piano si allontana dalla società. Tutto questo bisogna impedirlo facendo prevenzione, prevenzione appunto è, oltre l'informazione, è anche fare il controllo dell'udito. Non ci sono altre forme di prevenzione. Bisogna cominciare a prendere coscienza del fatto che l'udito piano piano peggiora. Purtroppo è una cosa naturale, per cui ce lo dobbiamo tenere, conservare fino alla fine dei nostri giorni. Ecco perché fare un controllo dell'udito significa cominciare a capire che dobbiamo stare attenti a quest'organo che ci servirà per molti anni. Siamo con la dottoressa Martina Ademilio, qui dentro il gonfiabile allestito dalla Maico per la sesta edizione di Nonno Ascoltami in Piazza Luca da Penne a Penne. E quindi spieghiamo il funzionamento di questo macchinario e in che cosa consiste l'esame dell'udito. Innanzitutto noi effettuiamo un'otoscopia per vedere se ci sono delle ostruzioni all'interno del condotto uditivo. Poi procediamo mettendo delle cuffie su entrambe le orecchie e ispezioniamo prima l'orecchio di destra e successivamente quello di sinistra, mandando degli stimoli a diverse intensità e diverse frequenze. E il paziente ci deve rispondere alzando la mano. Quindi è una cosa molto semplice, un esame di prevenzione per una prima istanza. Ecco, dopo i primi esami, i primi test avete riscontrato qualche patologia? In alcuni casi sì e in altri invece c'è una norma acusia quindi è tutto a posto. In caso il test venisse negativo quindi con una ipoacusia, ma andiamo a fare una visita più approfondita in ospedale dal dottor Rapino che è il primario qui a Penne. Ovviamente, per i più diffidenti, per i più timidi, diciamo così, che cosa possiamo dire proprio per invitarli anche nelle prossime settimane in altre piazze della regione a prendere parte a questi test, a questi esami dell'udito? Essendo una prevenzione noi comunque consigliamo sempre di effettuare questo controllo gratuito dove possono venire bambini, adulti e persone un pochino più anziane e la prevenzione gratuita non si può mai dire di no. Piazza Luca da Penne con il dottor Vincenzo Rapino, direttore del reparto di Otorino, la ringogliatria dell'ospedale San Massimo di Penne. Veniamo a parlare di questa bella edizione di Nonno Ascoltami che ha richiamato tanta gente al seguito qui in piazza, la festa del nonno proprio all'insegna di una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Lei come l'ha trovata? Io ho trovato molto interessante anche il recupero di questa funzione sociale da parte dell'ospedale che si apre in piazza perché vuole essere sempre vicino agli utenti, agli anziani, ma tutti i desiderosi di mettere un momento di sicurezza nelle prospettive della propria comunicazione. E' un invito che noi facciamo proprio come un augurio di prosperità, di relazioni dalla popolazione e quindi ci apriamo proprio per questo in piazza. Quindi parlare della comunicazione nel senso lato, quindi di udito, ci aiuta proprio a recuperare una funzione sociale di certe fasce di età che potrebbero essere escluse da tutto quel mondo civico che è proprio dalla piazza. Quindi li rivolgiamo qui per contribuire al loro futuro e anche al loro presente relazionale. Quindi ci fa veramente piacere questo nuovo invito e questa gratificazione che abbiamo avuto anche da parte di Maico che ci ha rinvitato. Noi abbiamo orgogliosamente dato il nostro contributo perché partiamo per prima qui a Penne, come non ascoltami, quest'anno è diverso. Nelle altre piazze praticamente ci sono gli stessi colleghi e gli stessi operatori. Non iniziamo tutti gli stessi giorni proprio perché è una grossa manifestazione, sono tanti anni che si fa. Rinnoviamo proprio con lo spirito nuovo di aprire a tutti e di essere più presenti perché proprio con questa scacchiera praticamente possiamo dare anche il nostro contributo anche di fuori dalla stessa piazza e nei altri giorni. Dottor Rapino, ma quali sono i problemi da superare per affrontare al meglio questo sviluppo della cultura della prevenzione di cui si parla da più parti però poi si fa ben poco all'atto pratico? Io direi superare sicuramente la diffidenza e di andare prima dalle persone che sono incaricate di fare questa diagnosi perché rapproggiandosi meglio a questa patologia si possono evitare delle complicanze perché il nostro sistema nervoso centrale si adatta purtroppo alla mancanza di un organo e con gli stessi neuroni come noi diciamo medici ci fa altre cose il nostro cervello perché risparmia e quindi risparmiando può praticamente aprire una patologia dalla comunicazione. Quindi l'invito di andare subito, di superare le diffidenze e di aprire questo canale a tutte le professionalità sanitarie che ci invitano i pazienti, che ce li invino i nostri pazienti più prima possibile in modo tale di poterli recuperare la loro funzione sociale. Esami dell'udito gratuiti, quindi una ghiotta opportunità da questa organizzazione ma quali patologie avete avuto modo di riscontrare dopo i primi test? Diciamo che abbiamo visto che la fascia di perdita dell'udito non riguarda soltanto l'anziano è una patologia che è molto frequente nella popolazione sia nella fascia lavorativa sia nei bambini ovviamente, con altre peculiarità ovviamente e quindi tutto il mondo della prevenzione deve essere rapprociato a questo tipo di patologia in modo tale di aprire il ventaglio di questa proposta per migliorare proprio l'inserimento della persona nel suo contesto lavorativo, nella propria famiglia e nella propria società. Secondo lei, dottor Rapino, perché è stato messo da sempre da parte il problema udito? Perché? Ma io direi che questo è solo un fatto culturale, è la cultura che ci deve aiutare a recuperare la funzione di questo apparato. Negli anni 50 il problema della vista non era sentito, per così dire. Io porto gli occhiali, come vedete, negli anni 50 nella mia scuola elementare eravamo solo in due, ce ne erano tanti di bambini e portavamo gli occhiali solo a due persone. Quindi è un problema di cultura e queste manifestazioni aprono questo discorso alla cultura. Più ne parliamo, più si sente il problema e più le persone si sentono confortate ad andare a scoprire queste loro peculiarità. Ormai alla sua sesta edizione, la rassegna Nonno Ascolta, mi ha avuto anche il patrocinio del Ministero della Salute a testimonianza dell'ottimo lavoro sin qui svolto. Sì, questo è un grosso segnale, è un segnale che sicuramente avrà un riscontro nella popolazione perché anche dall'alto piovono gli input e sicuramente queste cose verranno discusse anche in altre sede e sicuramente avremo un ulteriore riscontro. Comunque sono patologie che riguardano tutti, grandi e piccini come diceva lei, ma anche uomini e donne. Sì, purtroppo sì. Abbiamo la peculiarità che andando avanti nell'età o in certi tipi di situazioni o per motivi lavorativi o per alcune patologie è un problema che riguarda tutta la popolazione. Al San Massimo come è messo il suo reparto, dottor Rapino? Ci difendiamo bene e quindi andiamo avanti con tutte le nostre forze. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS